La reazione delle opposizioni è l'ennesimo governo in provetta, non staremo a guardare i 5 Stelle pronti alla mobilitazione in piazza ma anche nel palazzo. Monica Giandotti. Abbandonare l'aula quando si tratterà di votare la fiducia al nuovo esecutivo non legittimeremo neanche con un no a questo governo. L'intenzione del Movimento 5 Stelle è chiara e la ventino, dicono, sarà solo l'inizio di quanto chiarito in queste ore, una opposizione dura e continua dove il principio ispiratore è basta ai giochi di palazzo. La prospettiva di un governo nel piano delle sue funzioni, come ha chiarito il capo dello Stato ieri, è sembrata ai pentastellati quanto di più lontano da ciò che hanno chiesto a Mattarella, ossia urne subito senza necessità di incaricare un nuovo governo con il legalicum, cioè la legge elettorale con i correttivi della consulta da adottare anche al Senato. Il Movimento 5 Stelle non potrà che mobilitarsi contro un nuovo governo Renzi sotto mentite spoglie. Stop ai giochi di palazzo. Il Movimento 5 Stelle vuole che si rispetti la volontà dei cittadini, chiediamo di andare al voto con la legge che verrà corretta con la consulta della Camera che si applichi anche al Senato. Smentite le dimissioni di massa, come trapelato in queste ore sui quotidiani, confermate invece le intenzioni di procedere a diverse manifestazioni di piazza. Un progetto messo a punto durante la congiunta di ieri post-consultazioni, assemblea seguita passo passo anche da Beppe Grillo, che è tornato ad insistere sulla necessità di rimanere compatti e di non trattare sulla legge elettorale. Stiamo con i cittadini non con i Volta Gabbana, così sui social il garante del Movimento che pubblica un post di Luigi Di Maio. I partiti, scrive, in queste ore stanno fabbricando l'ennesimo governo in provetta per continuare a mantenersi i loro megastipendi, le loro pensioni e i benefit. Noi non staremo a guardare.